Siano lodati, Gesù. Cari fratelli e sorelle, ieri abbiamo iniziato a meditare sullo rosario che dona luce alla nostra mente, luce su Dio e sui misteri della vita di Gesù. Oggi continuiamo a meditare su questo argomento considerando come il rosario ci doni la luce più importante, che è la luce sullo stato della nostra coscienza, che è la luce sulla nostra anima. Senza la preghiera noi tante volte ci sentiamo a posto davanti a Dio, ci sentiamo delle persone per bene e ci sembra di non aver commesso chissà quali peccati. Man mano che preghiamo, soprattutto con la recita del Santo Rosario, la luce entrerà nella nostra anima e noi riusciremo a vedere il disordine che vi è in essa. Senza la preghiera ci sembrava di essere in ordine, con la preghiera invece vediamo quello che siamo in realtà. E' questa la luce più importante che, recitando il rosario, dobbiamo domandare alla Madonna. Il rosario, dunque, ci fa aprire gli occhi sulla nostra anima. Con il rosario noi vediamo l'anima per quella che è. Si tratta però di pregare bene il rosario, di meditarne i misteri. Diceva Sant'Alfonso Maria degli Guori che senza meditazione noi non possiamo perseverare nella grazia di Dio. Meditazione e peccato non vanno mai insieme. O si lascia la meditazione oppure si lascia il peccato. Per quale motivo? Perché la meditazione ci fa aprire gli occhi su quello che siamo realmente. E questo vale anche e soprattutto per la preghiera del rosario, che è preghiera vocale e meditazione insieme. Con la preghiera vocale noi parliamo a Dio, parliamo alla Madonna. Con la meditazione è Dio che parla a noi, è la Madonna che parla a noi illuminandoci interiormente su quello che lei vuole dirci. E ciò che ci vuole far comprendere è lo stato di disordine che vi è dentro di noi e dunque la necessità di iniziare una vita virtuosa. Senza preghiera noi siamo come dei ciechi. Insegnava Dom Shatar nel libro L'anima dell'Apostolato che se manchiamo alla vita interiore i peccati si moltiplicano ma noi quasi non ce ne accorgiamo perché l'anima si è messa nello stato di non vedere più e non vede più proprio perché non merita. E così prima o poi giunge la morte e solo allora l'anima vedrà l'illusione nella quale era vissuta per tanti anni. Per non cadere in questa illusione, per svegliarci da questo stordimento, è importantissimo pregare il rosario e pregarlo bene. Scriveva Santa Teresa Davila Un giorno, mentre ero in orazione, mi trovai ad un tratto trasportata tutta intera nell'inferno senza sapere come, compresi che Dio mi voleva far vedere il luogo che i demoni mi avevano preparato e che io mi ero meritato con i miei peccati. Fu una visione che durò pochissimo, ma vivessi anche molti anni, mi sembra di non poterla affatto dimenticare. Questa fu una delle più grandi grazie che Dio mi abbia fatto perché mi ha giovato moltissimo. Santa Teresa aveva condotto i suoi primi anni di vita religiosa nella tiepidezza spirituale. In seguito si convertì a 39 anni guardando una statua di Gesù coperto di piaghe. Da allora iniziò una vita di fervore che la condusse alle vette della santità. Per giungere a questo risveglio spirituale adoperiamo alcuni mezzi, compiere perfettamente i nostri doveri, pregare molto e recitare bene il rosario. Scriveva il padre Villar Per la vita di perfezione e di santità il fervore è assolutamente necessario. Senza di esso non puoi piacere a Dio né ottenere da Lui quel che desideri. Le virtù finiscono per morire e scomparire completamente. Mancano le forze e il coraggio per tutto. Tutto questo succede a chi manca di fervore. Quale facilità invece trova nella sua vita il fervoroso? Non gli mancheranno difficoltà, contrattempi e tentazioni, ma nel fervore trova facilità per tutto. Solo, dunque, con il fervore potrai piacere al Signore. Solo così santificherai l'anima tua. Gesù paragona la tiepidezza al fico sterile che produce solo foglie e rami e non giunge a dar frutto. Pertanto il suo padrone, stanco della sua inutilità, decide di strapparlo perché non occupi un posto che meglio avrebbe occupato un'altra pianta. Il libro dell'Apocalisse dice Ecco dunque ciò che dobbiamo chiedere alla Madonna con la recita del Rosario, Il Rosario ben recitato è l'inizio di una vita nuova, una vita di fervore e di santità. L'esperienza insegna che basta il Rosario ben recitato per uscire dalla tiepidezza. Il Rosario ben recitato dona tanta luce alla nostra anima. Tutto cambia. Ma proprio perché è l'inizio di una vita nuova il demonio fa di tutto per non farci recitare bene il Rosario moltiplicando le nostre distrazioni e indolenze facendoci rimandare sempre a dopo quello che possiamo fare subito. Siano lodati Gesù e Maria Siano lodati Gesù e Maria